Bene, ciao a tutti da PGR, altro tutorial che mi è stato richiesto. Come possiamo fotografare un video? Allora, per fotografare un video io consiglio due modi. Uno un pochino più complicato, ma alla portata di tutti, e uno un pochino più facile, però bisogna scaricare un programma. Partiamo da quello un pochino più complicato. Allora, apriamo un video che ieri non sono riuscito a mettere su Facebook, perché mi hanno detto che offendo il copyright, violo il copyright. Ok, lo apriamo, apriamo il video, sempre se si apre, dovrebbe partire, ecco che è partito. Voi adesso sulla tastiera andate a guardare, dovete trovare un tasto dove c'è scritto stamp r-sist. Lo tenete pronto e per dire, in questo momento lo cliccate. A questo punto spegnete il video, andate sul menu qua giù in fondo, aprite tutti i programmi, andate su accessori, aprite Paint, e qui incollate. Ecco che avrete una foto di tutto il desktop con l'immagine del video. Allora, noi andremo a salvare, nel nostro desktop, e una volta salvata questa immagine, piano piano, l'andremo a aprire, e a ritagliare, con Microsoft Office. ecco che l'abbiamo, facciamo modifiche immagini, ritaglia, e andremo a ritagliare completamente tutta la foto. Adesso lo sto facendo alla grande, ma poi sarete più precisi. A questo punto basta dare l'ok, ecco che avremo la foto, che verrà salvata. A questo punto, da quanto la apriremo, ecco qua la nostra foto che è cambiata radicalmente, abbiamo la foto di questo piccolo spezzone di video. Questo era il metodo un pochino più complicato, ma più facile, perché tutti questi programmi che abbiamo usato sono, diciamo, dentro Windows appena quando viene installato. Invece, un'altra cosa molto più veloce, è scaricare questo programma qui, VLC Media Player. Andiamo su internet, scriviamo, facciamo così, andiamo un attimo indietro, scriviamo VLC, mi raccomando che sia videolan.org, perché se no, attenzione che ci sono delle truffe in giro, con questo VLC, lo scaricate, e lo installate. Una volta installato, lo andrete a aprire, sempre tutto piano piano, a questo punto, andiamo qui dove c'è scritto visualizza, clicchiamo, e andiamo su controlli avanzati, clicchiamo, vediamo che sono comparsi questi quattro bottoni, ok, adesso con VLC, apro il video di prima, e questo tasto qui, poi vi spiegherò un'altra cosa, basta cliccarlo, ecco che avremo la foto, questa che compare qua su, già pronte, come vedete, la foto che compare qua su, poi verrà riprodotta direttamente qui, dicevamo, fermiamo, ovviamente, dovremo andare su strumenti, preferenze, e mettere, il fotogramma, dunque, video, andiamo su video, e, schermate video, faremo cartella, sfoglia, metteremo, desktop, così, vi si salvano sempre nel desktop, che se no vanno a finire in cartelle un po' particolari, che non, possiamo anche scegliere il formato, PNG, JPEG, OTFE, OTIF, ma, io propongo PNG che è il migliore, ok, lo salvate, salvate tutto, ecco che, a quel momento, quando spingerete la macchinina fotografica, verranno fuori, come vedete, la foto è grandezza naturale del video, adesso andremo a aprire, come vedete, con VLC, la foto, è già, diciamo, pronta, ecco, bene, ciao a tutti, arrivederci, e alla prossima.